Nuova illuminazione da oggi alla rotonda di via Biondi a Teramo che era scura di sera. Sì, io direi finalmente perché si aspettava da anni oramai l'installazione e l'illuminazione di quella rotonda, l'installazione di punti luce su quella rotonda, situazione che creava pericoli per chi transitava su quella strada. Quindi tra l'altro ho voluto inaugurare l'inizio dell'installazione dei nuovi punti luce che saranno diversi in tutto il territorio comunale. Il primo punto luce ho voluto che proprio partisse dalla rotonda di via Biondi. Quanti punti luce avete messo in quell'incrocio? Allora sono tre fari sul palo che è al centro della rotonda e poi sono altri tre punti luce. Forse ci sarebbe venuto qualcun altro ma abbiamo dovuto cercare di dare attenzione soprattutto alle frazioni dove è veramente la situazione dei punti luce. Magari c'è ancora molto da fare per poi strada facendo ci siamo accorti che alcune frazioni, più che frazioni, alcune abitazioni che sono le frazioni magari sono rimaste senza. Però speriamo poi con l'economia di dare risposta anche a loro. Saranno accesi i punti luce a partire da stasera? Sì, a partire da stasera quella rotonda sarà illuminata e quindi ne siamo veramente felici perché c'era una richiesta continua di cittadini di segnalazione di pericolo e poi a volte si verificano anche gravi incidenti. Quindi diciamo siamo felici di questo, siamo nella giusta direzione, poi quando si accende una luce è un segno anche di rinascita.